Avete sentito, signora? È morta Clelia. Chi? Clelia Farnese. Vi ricordate? Di lei parlava tutta Roma. Parlava? Sparlava, signora. Su di lei sono state dette menzogne e furono orditi complotti. Quando era maritata con Giovanni Giorgio Cesarini, si dava da fare come una donna facile, una cortigiana. Vabbè, che il marito era vecchio e lei giovanissima, ma era pur sempre la figlia del cardinal Farnese. Due grandi famiglie unite. A questo servono i matrimoni. L'orso insieme al giglio. Due casate unite. E lei adultera. Adultera? Ma che dite? Anche voi con le pettegole romane. Fu tutto un complotto. Il cardinale Ferdinando de' Medici si invaghì, la corteggiò, fece credere a tutta Roma di averla avuta solo per inimicizia con l'altro cardinale suo nemico. Si figurì che tutti e due volevano diventare papa e la povera Clelia c'hanno di mezzo. C'ero anch'io alla corsa dei cavalli che il cardinale dei Medici organizzò a San Pietro in vincoli. Ed ho visto con i miei occhi le attenzioni ed i premi e le dediche che faceva la bella Clelia. Tutto davanti agli occhi del marito. Uno scandalo. Al cardinale faceva comodo far credere di aver posseduto Clelia. Pensi che nel suo studiolo frequentato da nobili e cardinali e ambasciatori del mondo fece dipingere un ritratto dello zucchi che ritrae Clelia nuda. Nuda per ben sei volte. Clelia posò per quel quadro. Lo sanno tutti? No signora. Fu fatta sua insaputa. Il suo volto fu copiato da un altro quadro e fu diffamata. E il corpo? E la posa? Quello è l'atteggiamento che si addice più a una cortigiana. Che non ha una gentildonna. Come se non le vedessimo tutti i giorni a Roma queste donnacce. Il cardinale Farnese leggeva le lettere inviate alla figlia per tentare di scoprire e di coprirsi. Ma la verità non è mai sorta fuori. Nessuno la sa. Lui stesso quando Cesarini morì e lasciò Clelia vedova per coprire lo scandalo e sottrarla alle mire di Ferdinando la fece rinchiudere a Ronciglione perché lei rifiutava di sposare il duca di Sassuolo. Ma per poter tenere il figlio con sé si fece rinchiudere. Nel testamento il marito la voleva casta. Poi però dovete sposare il duca perché è obbligata dalla famiglia e dalle usanze. Questa è la verità. Se lo dite voi. A Roma le chiacchiere dicono tutt'altro. Mi guardavo allo specchio e per quanto gli anni fossero passati i capelli, la pelle, non avevano il segno dell'età. Il segno che porto ancora, pesante, indelebile, è quello delle matrone romane e delle cortigiane che tra ozio, pettegolezzi e figli bastardi si sentono migliori di me. «Quattordici anni. Avevo solo quattordici anni. Era l'uomo più potente del mondo e voleva proprio me. Non capivo. Mi allettava l'idea di essere considerata tanto. Non capivo. Forse spinta e consigliata proprio da chi aveva il dovere di proteggermi. In una città sacra e dannata. Roma. Un fiume dove si riversano le ricchezze e le grandezze del mondo e le indicibili miserie del popolo. Un luogo dove l'ambizione non conosceva pudori. Diventò l'amante di Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, a quattordici anni. Catturata, sì, da un'avventura affascinante, ma anche da un giro vorticoso, cadde in una ragnatela di intrighi sentimentali, ostilità politiche, avidità senza scrupoli, che spesso portavano a matrimoni dinastici, a cui ci si legava più che ai patti sottoscritti e firmati. Finalmente era serena, adulta, tra la sua gente, nella tuscia. La popolazione di qui è gentile, generosa. Qui non mi chiedono dove sono stata da giovane, chi sono stata. Sono la loro signora. Sono loro che mi aiutano a dimenticare i dolori del passato, a superare i momenti di rimpianto, a vivere in modo normale. Oggi che mia figlia è sposa di un della rovere, cugino del Papa Giulio, posso cominciare ad esistere. Sentiva il bisogno di vivere, sentiva il bisogno di amare. Strano a dirsi, lei che non aveva ancora conosciuto il piacere che viene dalla libertà di poter scegliere. Era stato un periodo che ora, con la mente adulta, ricordava con un senso di profonda tristezza, un periodo di facili entusiasmi, di cocenti delusioni, di prediche ossessionanti e di pessimi esempi, di risate sbagliate e di lacrime represse, di profumi stimolanti e di acro odore di incenso, di atti d'amore consumati con profondo senso di ripugnanza. In fondo si accorgeva solo ora di aver sacrificato gli anni più belli della sua vita ad un carcere dorato che l'aveva posta contro Dio e con la vergogna degli uomini. Lo specchio continua a riflettere la mia immagine, ma non mi indicavo più il suo consenso. Io, donna che non aveva saputo evitare i disastri causati dagli uomini, la vicenda di ogni uomo dipende dalla fortuna fino a che la ragione non venga a sovvertire un oroscopo. Ma Giulia era troppo bella, quasi una dea, e a lei non spettava il destino dei comuni mortali. Grazie.